Sì, è stato assai alto. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Il quarto è finito, il primo quarto è finito 29 a 6, l'altro è finito il suo posto. Sono morto eh! Ma ti sei? Secondo posto, l'ultimo posto, l'ultimo posto. No, ma le gare del 5-1 a 6. Non ho tutto ! Non ho i namenti! V зас carini! Non ho i namenti io! Vissera! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.